Guardi, io veramente non so che cosa vuole, signor Frascalazzalo. Voglio che tu mi dia un sbrrrrrrrrrrrrrr. No, no, non sto capendo, guarda che miseria, questo mi uccide, mi uccide, aiuto, aiuto. Cagnamano, ti pago per fare cosa, ti pago per fare cosa, ti spatolo, ti spatolo forte se non vai a fare. No, no, tu non lo sei, tu sei il cuoco, ma se anche devi gestirlo, guardatelo là, quant'è minaccioso. Frascalazzalo, abbiamo parlato io il mio cuoco e sicuramente le preparerò, le preparerà quello che ha detto. Veloce, dagli questo, dagli questo, digli che lo offre la casa, io ho detto di dargli questo, idiota, non darmelo indietro. Vabbè, adesso me ne devo andare, me ne devo andare, addio, fai finta di niente, ciao. Io esco, signor Frascalazzalo si goda, fragolo, mi raccomando, nel caso è un destro forte e via. Ok, perfetto, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, questo mi distrugge il negozio. Aspetta che chiamo un attimo la polizia perché altrimenti questi qua non può essere, non può essere, veramente. Beh, che cosa sto facendo, ma che cosa sto facendo? Pronto, polizia, vorrei parlare con un signore perché, allora praticamente le spiego, mi faccia parlare però perché sennò poi dopo mi arrabbio. Allora c'è sto tizio qua che si chiama Frascalazzalo, tipo, ed è dell'esercito, no? E che cos'è che fa sto qua, viene a dire che vuole un brrrr? Eh, io non so che cosa vuole però, cioè, però, cioè, capito, mi ha minacciato, ha detto che se non fa mi fa male. E ora è dentro il mio negozio e sta minacciando sicuramente fragolo, come caspita si chiamava, non mi ricordo, l'altro tizio, no? Non so se avete presente, va bene, non sono importanti i dipendenti, tanto chi se ne frega di loro. Allora, se ho capito bene, io sono molto preoccupata per questa situazione, le consiglio di stare calmo, perché altrimenti potrebbe finire in galera, ha capito? Eh, quindi, secondo lei dovrei stare calmo perché altrimenti finisco io in galera, ma mi scusi, c'è un pazzo là che mi vuole uccidere, ma come si permette, ma veramente, adesso io basta, sono invignato, me ne vado via per sempre. Intanto prepariamo questa torta qua, eh no, ho fatto un casino, intanto preparo la torta. Signora torta, si cuocia bene, si cuocia bene. Io sono la strega! Dunis me la pagherà! Io so che l'ultima volta sei entrato in casa mia, brutto idiota! Nessuno può entrare, nessuno! Uh, mi sto sentendo male, aspetta! Nessuno può entrare in casa mia, nemmeno io! Sento la loro puzza, che puzza! Puzza, mi devo lavare! Chissà perché però ho lì lo stesso inventario di Dunis, non si sa questa cosa, io ho solamente fatto una magia e adesso ho questo inventario di Dunis. Posso spiargli nel telefono? Ora piano piano mi avvicino... E gli blocco la porta... Vabbè, lasciamogli così... Quello là ora non mi entrerà mai più in casa! Ok, ho fatto! Ho finito la torta, adesso posso mangiarla qua sul tavolo? Togliamo questo piatto di schifo che non serve a niente nessuno... Vabbè, va bene anche qua per terra, tanto chi se ne frega! Mangiamo un pochino... Ma non ho fame, ma non ho fame, ma come... Basta, spatolo questa torta! Non è possibile! No, non posso lasciare le persone là, rinchiuse, senza fare niente! Ma veramente... Ma... Scusa... Come... Cosa... Perché? Ma chi è stato a chiudermi la porta? Vabbè, io esco dalla finestra... Allora, io devo capire che caspita è stato questo deficiente che mi ha chiuso la porta! Chi è stato, eh? Qualche vicino... Qualche vicino scemo? Io lo so! Io lo so! Vado a distruggere quel signore antipatico, visto che la polizia non ci pensa! Io veramente sono scioccato da questa... Da questo villaggio che non è connesso con nessuna parte! Io veramente... Basta! Non ne posso più! Ci sono addirittura i cavalli! I cavalli! Oh... Oh, ma ci sono pure gli ATM, molto buoni! Adesso mangio... E così recupero forze... E dentro gli spacco... Diciamo, gli spacco... Aaaaaaah! Mi scusi, non volevo, non volevo, non volevo! Ah, cosa sto facendo? Porca miseria! Eh, no! Ok, vabbè, insomma... Lei è proprio antipatico, comunque... Mi scusi, se ne può andare via? Allora, signor tizio là, gli ha dato le cose? Sì! È molto bravo, gli è piaciuto? E beh, in effetti, è stato molto buono! Ok, va bene, allora arrivederci e grazie! Cavolo che antipatico quello là! Lascia pure le porte aperte! Non le chiude nemmeno, accidenti! Devo... Fa pure caldo, quindi adesso attivo queste cose... Perché sennò poi dopo moriamo di caldo qua dentro! Ad ogni modo la sua puzza ha un po' impuzzato tutto quanto il negozio, non è possibile! Devo aprire tutto quanto e far uscire, far ariare! Forza, aria, aria, aria! So, so, cattivi odori! Fragolo, 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 dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po', io salgo qua perché posso... Allora, però mi devi guardare in faccia, fragolo, perché altrimenti non ci siamo capiti, allora! Dimmi un po', quel signore là, alla fine, come l'hai visto? Dalla mia attenta analisi psichiatrica mi sembrava una persona con disturbo antisociale di personalità, una persona molto difficile che non può essere trattata, ecco! Eh, sì, fragolo, ma non ti ho chiesto la diagnosi psichiatrica, accidente, a te, io ti ho solamente chiesto di dirmi, ok? Che tipo, vabbè, guarda, lasciam perdere, lasciam perdere! Sì, allora... Boh, io comunque sinceramente non so proprio, non so proprio cosa pensare... Oh, che schifo! Ma certo che questi piatti sono proprio tecnologici, li hanno fatti proprio bene! Allora, cagnamano, ma che tizio era quello? Come mai era venuto qua un tizio dell'esercito? Cioè, come mai? Eh, ci sono un sacco di gelati, ma guarda, quasi quasi li rubo un pochino No, non guardare il frigorifero, io li posso prendere perché sono il proprietario del negozio, ma guarda te, guarda te che devo pure, pure no fare le cose Allora, eh? Siamo comunque, siamo arrivati alla fine della giornata, quanti clienti sono arrivati in tutto? Tanti? Sì, bene, tanti, molto bene, sono contento Molto bene, dammi i soldi allora Ah, ok, grazie mille Ma quindi, oddio, allora abbiamo guadagnato 350 più... 370 in tutto Molto bene, molto bene Direi che abbiamo fatto un ottimo affare Perché è un blocco di... Ma io veramente non so, sinceramente Allora, io lo dico subito al mio commercialista Pronto! Mi scusi, è il mio saluto Sì, è il mio saluto, signor commercialista Guardi, io le volevo dire Oggi abbiamo incassato... Mi scusi, mi stavo concentrando Abbiamo incassato 370 euro Lei che ne dice, tanto o poco? Poco? Ma come poco? Solo in un giorno Ah, ok, ok, ok Eh sì, abbiamo rubato questi blocchi Sì, sì, sì Eh, dalla... Eh, sì Forse dovremmo dare i soldi, come dice lei Ok, d'accordo, arrivederci Guardi, io non voglio sapere più niente Basta, io... Maria, io esco Ciao